Passaggio da un'area di lavoro ad un'altra modellazione 3D su un scheda superficie gruppi vertici di controllo attiva comando barra di modifica VC Posiziona il cursore un oggetto premi il tasto sinistro del mouse Sposta il cursore premi il tasto sinistro del mouse Posiziona il cursore premi il tasto sinistro del mouse Sposta il cursore premi il tasto sinistro del mouse Premere il tasto ESC sulla tastiera